Sono davvero tanti e secondo me dobbiamo preoccuparci in particolare relativamente al cibo proprio perché è nel mondo del cibo che abbiamo più libertà di scelta rispetto ad altri settori. Cosa decidiamo di ordinare al ristorante, cosa scegliamo di acquistare quando facciamo la spesa sono assolutamente nostre libere e personalissime scelte. Cosa possiamo fare ogni giorno? Sono sicuramente tante piccole scelte quotidiane, alcune magari chiedono se chiudici in più, altre meno. Di sicuro dobbiamo partire dal tema degli ingredienti e dell'alimentazione su cui decidiamo di battere.